Il grande progetto di Mozart, concerto in A maggiore, KV-119, primo movimento e cadenza di piova. Il dipizzo dall'1198, variazioni a retro, comodo, un dedo sostenuto dalla tecnica superiore di vino e di Yohan Sebastian Bach, ad arte e fura, la prima suonata di Sonny Nure. A pieno forte, con su app. Grazie. 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 Grazie.